ciao a tutti ragazzi ciao a tutti oggi di nuovo un video a tema halloween ecco qui paola che c'è ecco dicevo eccoci qui e mi hai fatto perdere il filo del discorso e in realtà questo negozio lo abbiamo già visitato o meglio abbiamo già visitato un altro negozio della stessa catena ecco se capisce un'altra parte sia la se sempre lo stesso e però da un'altra parte vediamo se qui c'è qualcosa di diverso vai paola che paura cominciamo bene eccoci qua io volevo andare dall'altra parte va bene ok premilo questo salta addosso ma che salta ma non funziona paola non insultarlo mi sa che si è staccato il filo mannaggia vabbè dai no questo soltava lo vedi la striscia che soltava eh lo so ma non funziona vabbè ci siamo rimaste male o meglio paola soprattutto dai vediamo quegli altri dai ma gli hanno messo una perrucca non è molto credibile carino però si muove tutto paola guarda si sta facendo un monologo ok basta ma questi che saltano non funzionano secondo me li hanno disattivati prova quell'altro che peccato eccolo eccolo ma questo non salta ha finito così si vabbè troppo suspenso secondo me ha finito paola voglio vedere questo dai guarda guarda vai già se già parla da solo ma se lo premo fa qualcos'altro che forte bellissimo wow poi vedi i costumi di mini e topolino che non ci azzeccano niente ma vabbè non fa nulla mi mi ero spaventata non ti trovavo più ho dovuto bloccare il video quando mi perde per 5 secondi paola già chiamava qua vabbè o che ne so non ti trovavo poi sono bassa tra gli scaffali non ti trovo paola ma che cos'è il mocio sono i pompon ma perché l'ho letto sopra dai paola questo è per te dai il tube guy una cacca arcobaleno come mi vedresti vestita da hot dog questi travestimenti sono imbarazzanti ma qui abbiamo i costumi più buffi ecco vedete lui e lei in versione burro di noccioline e marmellata poi abbiamo questo peperoncino piccante no il cetriolo piccante va bene aspetta aspetta che ora ci arrivo poi abbiamo un taco e un cheeseburger una banana giustamente la nonna e il tipo qua luminoso il dinosauro il pinguino la mucca guardate con le sisotte e poi abbiamo il palloncino a forma di cane abbiamo quest'altra cosa buffa e sì ma io in realtà volevo fermare a questo che è l'ultimo che inquadrerò eccolo qui il mitico la tazza del bagno vedete ole paola ha deciso di provare a rubare i dolcetti a questo spaventapasseri si è arrabbiato paola aspetta ha ripreso male dai rifallo rifallo non c'era nessun pulsante però no al bocchetto basta che lo muovi guardate le confezioni di caramelle che belline delle penne molto originali bene ragazzi vi salutiamo con questo meraviglioso messaggio e che non so che dico io di fronte a questa cosa va bene sì lo so è un meraviglioso messaggio però preferisco baciarti senza la maschera ciao a tutti ragazzi dai che ti da un bacino mi ne scerza mi ne scerza mi ne scerza mamma